L'emmiola L'emmiola è lo spostamento ritmico dell'accento da un andamento ternario ad uno binario o viceversa da un andamento binario ad uno ternario. Per capire meglio facciamo questo esempio. In una misura di 4 quarti abbiamo 4 sedicesimi per ogni movimento. Ma se noi suoniamo una frase di 3 sedicesimi ad esempio rullante rullante cassa e la ripetiamo consecutivamente ecco che otteniamo lo spostamento dell'accento da un andamento binario ad uno ternario. Grazie per la visione! Apliquiamo l'emmiola a un fil. 1, 2, 3, 4 izations a per l'emmiola a un... Grazie a tutti.